Un giorno è arrivato il postino a casa dove ha bussato e ha rilasciato un'attestazione che si doveva ritirare questa cartella Equitalia alla posta. La meraviglia era che non era un familiare ma soprattutto al bambino di 7 anni. Che cosa hai fatto per avere questa cartella Equitalia? Non lo so! È successo che abbiamo atteso il giorno seguente e siamo andati col bambino a ritirare questa cartella Equitalia alla posta a Quasto. No, c'è stata una perplessità in tutte le persone che stavano alla posta perché la meraviglia era vedere un bambino così piccolo che ritirava questa cartella Equitalia. Alla fine abbiamo scoperto il motivo del percare al bambino. Era una richiesta dell'ASL nei confronti del bambino che secondo loro non aveva diritto a un'esenzione ticket. All'epoca era tutto regolare perché il bambino aveva 3 anni. Era stata presentata una richiesta ai 6 e in base a questa richiesta gli era stato dato un'esenzione ticket. Poi non sappiamo per quale motivo sono stati fatti dei controlli e l'ASL ritiene che quell'esenzione non era valida. Pertanto gli è stato richiesto al bambino di rientrare di 257 euro. Molto probabilmente Equitalia e l'ASL ritengono che ormai bisogna mandare a tutti l'importante è recuperare i soldi che secondo loro devono rientrare. Ma l'errore di fondo sicuramente c'è stato. Sicuramente non può e non può essere mandato una cartella esattoriale a un bambino di 7 anni. Noi ci aspettavamo che Equitalia svolgisse il suo compito e anche l'ASL rettificando il tutto e mandando a noi, a uno dei genitori, la cartella. E invece visto che l'ASL ha ritenuto giustificare il tutto con delle giustifiche che non hanno valore, a quel punto non abbiamo potuto fare altro che fare ricorso a questa cartella. Ma come tutti i napoletani abbiamo pensato in primo momento di giocare all'otto. Qualcuno ha anche giocato, si è giocato una serie di numeri e abbiamo solo sbagliato perché noi abbiamo giocato il bambino e gli scemi. Invece dovevano giocare il bambino e i pazzi ed è uscito l'ambo a Napoli. No, non seguono le regole, perché noi le dobbiamo seguire? No, non seguono le regole.